ciao a tutti amici e amiche del tavo man oggi siamo qua di fronte a un video un po particolare siamo di fronte ai tarocchi e alle carte oracolari ma qui in centro c'è un protagonista molto bello che è il pendolo radioestesico questo è il mio pendolo ho fatto un tempo addietro alcuni video dedicate alla radioestesia e all'utilizzo del pendolo quindi se vi va e vi interessa anche questo tema vi invito a andare indietro coi video e appunto arrivare ai video dedicati all'utilizzo del pendolo allora avete qui di fronte a voi quattro mazzi di carte o meglio quattro mazzetti che ho già selezionato dai tarocchi e dai oracoli e al centro questo pendolo ora è sempre una è un video interattivo con due varianti quindi per prima cosa dovete scegliere variante numero uno o variante numero due quindi scegliete il numero uno o il numero due fatto questo cosa succede partiamo subitissimo dalla variante numero uno perché per quello che hanno scelto la variante uno in pratica adesso chiederò al pendolo quale di questo mazzo da puntista energetico si abbina a voi che avete scelto la variante uno e andiamo a capire il significato ovviamente sono tempistiche da qui a massimo tre quattro mesi rispetto a quando aprite il video quindi incominciamo subitissimo pendolo per la variante numero uno per coloro che hanno scelto il numero uno qual è il mazzo a loro destinato per la variante numero uno qual è il mazzo a loro destinato per la variante numero uno qual è il mazzo a loro destinato beh non c'è dubbio il vostro mazzo è questo eccolo qui quindi andiamo subitissimo a capire le energie per la variante uno abbiamo donno uomo dei gemelli bilancia acquario quindi o voi o un'altra persona con la quale avrete a che fare durante questi mesi è dei segni di aria quindi gemelli bilancia acquario però ovviamente andiamo avanti abbiamo la carta del bambino figlio fertilità qui potrebbe nascere un qualcosa di nuovo un qualcosa di rinnovato con appunto questa figura oppure potrebbe essere un un bambino la nascita di un bambino o avere a che fare con un bambino è dei segni di aria quindi ripeto gemelli bilancia acquario in primis ma poi potrebbe essere anche il fatto che portano l'ascendente in uno di questi segni qui potrebbe nascere un qualcosa con questa figura da puntista amoroso di amicizia collaborativo lavorativo perché è la carta anche della fertilità della nascita del rinnovamento potrebbe esserci anche una gravidanza un progetto che nasce pian piano matura ok abbiamo poi la regina di denari quindi abbiamo una donna in questo caso dei segni di terra toro vergine capricorno portatore portatrice dell'ascendente in uno di questi segni potrebbe essere una donna principalmente ma anche potrebbe essere un uomo con energie per dominanti femminili potreste essere voi questa persona o anche potrebbe essere una persona con la quale vi approccerete durante questi mesi quindi qui abbiamo due carte figure qui figure dei segni di aria e invece qui dei segni di terra abbiamo il dieci di spade qui allora visto che questo dieci di spade è uscito in concomitanza con questa regina di denari qui potrebbe esserci la rottura o la fine di un rapporto con una persona dei segni di terra toro vergine capricorno oppure attenzione perché questa figura dei segni di terra potrebbe ferirvi potrebbe colpirvi alle spalle quindi potrebbe arrecarvi un danno e anche parole molto molto forte pronunciate da questa persona che vi feriranno però attenzione magari siete stati già feriti in passato da questa figura e adesso con questo dieci di spade riuscirete a rialzarvi più forti di prima ovviamente questo dieci di spade accumunato con la regina di denari mi fa presupporre che potrebbero esserci dei delle problematiche dei conflitti anche abbastanza tosti con questa figura ok quindi questi sono i messaggi per coloro che hanno scelto la variante numero uno ma andiamo avanti per coloro che hanno scelto il numero due la variante numero due anche qui essendo un interattivo a tempi brevi da qui a massimo tre quattro mesi rispetto a quando ascoltate il video ok qui ci sono gli altri tre mazzetti perché per la variante numero uno il pendolo l'ha scelto questo mazzetto vediamo quindi di chiedere al pendolo per voi della variante due qual è il mazzetto a voi affine ok vediamo chiediamo al pendolo qual è di questi tre mazzetti è affine alla variante numero due vediamo eh qual è di questi mazzetti affine alla variante numero due qual è di questi mazzetti affine alla variante numero due qual è di questi mazzetti affine alla variante numero due e non c'è dubbio è non c'è dubbio è questo mazzetto in basso per la variante numero due vediamo di capire il significato abbiamo la carta della condivisione quindi qui condividerete qualcosa con uno o più persone della vostra vita oppure un qualcosa con qualcuno che incontrerete durante questi mesi quindi area di condivisione area di collaborazione condividerete con questa persona con questo gruppo di persone anche un pezzo della vostra vita voglia di rischiare mettersi in gioco quindi la cosa bella che vi aprirete al prossimo vi aprirete agli altri e avete maggior voglia di mettervi in discussione di mettervi in gioco anche se magari non saprete come sarà il vostro futuro in base anche alla decisione alla scelta che farete però sicuramente se vi farete aiutare dagli altri e farete gioco di squadra o gruppo riuscirete a realizzare un qualcosa di bello quindi il fatto di mettervi in mostra in maniera positiva mettervi in discussione e questa voglia di rischiare sarà comunque molto molto positiva dovete essere comunque ottimisti e uscire dalla vostra zona di comfort e infatti guardate abbiamo il matto quindi guardate come sono quasi uguali queste carte quindi sarete doppiamente diciamo abili e aspirerete a una nuova partenza il matto la carta diciamo zero la carta diciamo senza numero quindi qui in alcuni casi vorrete ripartire o partire da zero in uno più ambiti della vostra vita non sapete bene queste questa strada vi condurrà verso un traguardo ma voi poco importa vorrete essere liberi comunque da condizionamenti esterni quindi sì è importante condividere questa cosa con gli altri e farete comunque gioco di squadra ma gli altri non imporranno su di voi la loro diciamo volontà quindi sarete liberi da condizionamenti e c'è questa voglia di rischiare e questa voglia di rischiare in alcuni casi per alcuni di voi potrà mettervi di fronte a dei concorrenti tra virgolette potrebbe mettervi di fronte a dei conflitti a delle competizioni dovrete competere e dovete difendervi anche da attacchi esterni da parte di altre persone questa voglia di vostra voglia di rischiare di mettervi in gioco potrà anche mettervi di fronte a dei divergenze e dei conflitti e litigi con una o più persone ok benissimo caro amici queste sono le varie le due varianti vi aspetto sempre qui su ciao a tutti alla prossima